Luca Speracchi e Mercedes Enger si sono fidanzati, tra Mercedes Enger e Luca Speracchi sarebbe scoppiata la passione . Secondo il settimanale, dopo aver passato una notte bollente, Mercedes-Lucas non si sono più lasciati, e la sera seguente Peracchi si è seduto al tavolo di un ristorante, dove era presente anche Eva Enger per la cena. I due avevano già dimostrato sui social una certa simpatia e nel corso dell'estate potrebbero continuare a frequentarsi uscendo finalmente allo scoperto. Qualche settimana a pomeriggio 5 l'ex nautaga dell'Isola dei Camosi, aveva ammesso di essere tornata single. Con il suo ex fidanzato Leonardo non sono riusciti a recuperare i precedenti due mesi di separazione a causa di alcuni equilibri, che sono venuti meno. Prima di quest'ultimo amore, Mercedes-Benz aveva avuto una breve storia con il fratello di Manuela Arcuri, Sergio. Mercedes-Benz Sanger a Capri. Scoppia la passione con Luca Speracchi, la bella bionda Mercedes-Benz Sanger è di nuovo innamorata. La figlia di Eva e Riccardo Schicchi è stata immortalata dal settimanale SPI mentre baciava Luca Speracchi. Entrambi i ragazzi arrivano da due storie d'amore importanti finite di recente. L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Speracchi ha messo fine al suo matrimonio con Silvia Corrias, sposata in gran segreto alla fine del 2016, a causa di incomprensioni e caratteri diversi. Tutti i fan del dating show di Maria De Chilippi ricorderanno il grande boom messo in cena da Lucas con la sua corteggiatrice Giulia Carnevali. Dopo vari sospetti da parte della conduttrice e della redazione, i due protagonisti avevano confessato di essersi sentiti durante il trono e accordati per la scelta. Da qualche settimana è terminata la storia d'amore tra Mercedes-Benz Sanger, e il personal trainer Leonardo, con cui conviveva a Roma. La conferma è arrivata dall'ex naufraga dell'Isola dei Famosi a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Il settimanale ideato da Alfonso Signorini ha fatto sapere che la scintilla tra Lucas e Mercedes sarebbe scattata a Capri durante un torneo di tennis, e la frequentazione sarebbe proseguita tra cene romantiche e balli. Questa nuova love story sarà destinata a durare, o si tratta di un semplice flirt di inizio a estate. . . . .